Corre il tempo, vengono scrutinati i seggi, ovviamente siamo ancora un po' lontani dai dati certi, comunque oscilla il Partito Democratico, comunque Toscana Democratico e Ricorosi, intorno al 60 e 65%, cerchiamo di stare larghi. Per Monica Faenzi siamo qui nel comitato del PDL di Livorno, insieme al responsabile per quanto riguarda il PDL a livello provinciale, Maurizio Zingoni. Oscilla al di sotto dei 30%, però cerca di avvicinarsi, Bosi con l'Udc al 5%, insomma questa è la distribuzione dei voti, le altre liste, anche se non si sono presentate in tutte le province, probabilmente non esistono. Esiste comunque il più grande partito a livello regionale, nazionale pure, che è quello dell'astensionismo. Fatte le somme, ormai siamo sul 61%, il 39% non è andato a votare. Chiediamolo, di chi è la colpa? Prima di tutto di cui non è andato a votare, perché in democrazia il voto è quasi un obbligo. C'è da dire questo, che forse si vota troppo spesso in questo Paese, in tre anni abbiamo avuto tre tornate elettorali, c'è da dire forse che la regione ancora è sentita come un ente lontano, non vicino ai cittadini. Ci sono molteplicità di fattori che non influiscono anche sul dato italiano, basta guardare il dato dei due settimane fa in Francia, dove ha votato il 50% degli elettori. Forse ci stiamo allineando, e questo non so se è un bene, alla media europea, dove votano pochissimi elettori, percentuali molto basse. Non è un bene per la democrazia, perché, come ho detto prima, la democrazia si esercita con il voto, ma c'è da dire questo, che forse in questo Paese si vota troppo spesso, sarebbe opportuno pensare anche a una legge che accorpasse le varie tornate elettorali. Ma lei gradirebbe una oligocrazia, cioè praticamente una politica gestita, vissuta e partecipata da una ristretta cerchia di affessionados? No, assolutamente no. Credo che la democrazia, come ho detto prima, la si debba esercitare, e questo dovere lo dobbiamo sentire tutti noi. Ripeto, andare a votare è un diritto dovere, quindi non andare a votare e astenersi è una cosa che sicuramente non giova alla democrazia. Forse sarebbe, come ho detto prima, pensare ad una legge per accorpare regionali, comunali, in pratica tutti gli enti locali, e andare a votare quando ci sono i nazionali. Ma pensare a uniformare le scadenze elettorali, credo sia anche un notevole risparmio per i conti pubblici. Concludendo, solo alla fine, quando avremo tutti i risultati definitivi, sapremo chi è che non è andato a votare, nel senso qual è stato il tipo di elettorato che ha deciso di non andarci per sfiducia in qualche maniera. Qui perde chi ha portato meno elettori a votare, ma questo è un dato che dipende da innumerevoli fattori. Noi abbiamo anche un elettorato che di solito è stimolato a votare, magari dopo due anni di pado a schioppa o visco, e questo si è visto nelle ultime elezioni politiche. C'è da dire questo, che Monica Faenzi ha fatto una grande campagna elettorale, e si è spesa completamente per questa campagna elettorale, quindi credo che comunque un risultato lei lo meriti, e mi sembra di vedere da quello che sono i risultati che stanno arrivando il buon risultato di Monica Cestato. Ci sono le prime proiezioni, la Toscana insieme alla Emilia Remagna, Umbria, Liguria, Marche, Puglia e Basilicata, si conferma regione del centro-sinistra, Enrico Rossi per le proiezioni aggiornate alle 17 avrebbe il 59,4%, Monica Faenzi.